Buongiorno, sono Anna Maria, vengo dall'Italia, sono rumena e ho avuto una bella esperienza a Istanbul a fare l'intervento al naso. Sono stata benissima, sono contenta, sono contentissima del lavoro fatto, sono trovata bene con Antonio, con la dottoressa e raccomando a tutti, se volete fare, venite qua, fidatevi che vi trovate benissimo e che vuol dire, mi sento benissimo, non ho i miei segni e sono bella, bella, bella. Grazie e raccomando tantissimo di venire qua.